...una parte di gioia irrinunciabile da fare velocemente, gratuitamente, bisogna però mettere le scarpe giuste per cominciare a correre... ...e quello di sicuro è che spesso non sono neanche le più costose, adesso ce ne sono di tante mani... ...vabbè dai, ragazzi continuate pure, sono contenta... ...imag, smack, kiss, kiss, Maria Nella Osta, kiss, kiss, smack, smack, kiss, kiss, smack, kiss, smack, kiss, smack, kiss, smack, kiss, smack, kiss, smack, kiss... fare partito di lavoro hai il power back non rimanere mai senza carica fastweb store shooty fermo via shooty 48 angolo via la pisardi chi taglia i capelli è il parrucchiere chi fa i conti è il ragioniere chi fa il pane è il palettiere chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati il gelataio il gelataio? sbagliato il gelatiere l'idea che rinfresca prova tutti i gusti piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato da mangiare subito è un po' eccoci